Buongiorno, buon sabato mattina a 7.45, benvenuti alla Rassegna Stampa in diretta a Fano TV. Sfogliamo i quotidiani del giorno, però guardiamo prima di tutto l'almanaco e quindi il santo. Oggi è Santa Luisa, sabato 15 marzo, il sole è sorto alle 6.20 e tramonterà alle 18.14. Ed ora il tempo, il tempo sostanzialmente c'è poco da dire perché come vediamo il bello è permanente, anche per oggi guardiamo la cartina. Come vedete sole, tranne qualche piccolo nuvolamento nelle zone centrali permane, transito di una leggera nuvolosità nel pomeriggio, però nessuna precipitazione, sole pieno sulla provincia di Pesero. E anche per domani lo schema è lo stesso, nessuna precipitazione, sereno, poco nuvoloso e qualche transito di nuvola. Anche lunedì sole pieno, scompaiono addirittura le nuvolette, non c'è proprio nulla di che. Sereno, precipitazioni assenti e quindi bello, stabile e pieno. Temperature, primaverili le massime, sicuramente Urbino 17 gradi, Pesero e Fano dai 6 ai 15 per oggi e anche per domani si attestano sui 16 gradi le massime. Quindi bel tempo stabile e questo fa piacere a tutti. Le notizie, entriamo nei giornali, apriamo con il resto del cabino per una brutta pagina di cronaca che si è verificata ieri. Un anziano si butta sotto il treno, muore in stazione sotto il Frecciarossa, una mattinata di sangue a Pesero ieri perché non c'è stato soltanto questo episodio. Anche un'anziana è caduta dalle scale, ha battuto la testa ed è morta. Un'atroce a fine per il pensionato, il traffico è stato bloccato per un paio di ore e muore in stazione sotto il Frecciabianca. E' morto così ieri, Michele Battistelli di 79 anni, soffriva di depressione, non ha lasciato scritto niente, nessuno scritto, aveva lamentato qualche problema a parenti ed amici le scorse sere. E poi l'insano gesto ieri mattina alle 12 al transito del Frecciabianca 98-14 Lecce-Milano. L'incidente della anziana pensionata, 74 anni, cade dalle scale battendo la testa questa anziana in un appartamento di piazza del Moro in centro storico. E quindi sono intervenuti le autorità e il 118 per i rilievi del caso. Rimaniamo a Pesero però, la questione dell'AMGA, le grane, un po' di ceriscioli, quali sono a fine mandato? Una di queste è sicuramente l'aerea AMGA e Tiviroli, che è l'amministratore delegato di Marche Multiservizi, dice che si va verso il risanamento. Il bilancio è approvato, Marche Multiservizio farà l'appalto, ma si ripartirà a settembre, però per la falda necessaria dai sei mesi a un anno, dice ceriscioli. E quindi insomma questo è una delle grane che dovrà risolvere l'amministrazione uscente, ma si va verso sicuramente la risoluzione. Ancora sanità bollente, vedremo anche in altre pagine, c'è una dichiarazione di Aldo Ricci, di Marche Nord, quali saranno le prospettive per la sanità, non contano i numeri, ma la qualità. E poi sul fronte del lavoro, nuova Berloni ricapitalizzata, quindi insomma i sindacati vedono la luce, segnali di solidità e la famiglia è coinvolta in questo piano. E quindi si cercano nuovi mercati, mercati che possano dare solidità a questa azienda e alle sue vendite, un segnale importante dal mondo del lavoro. Andiamo sulle pagine del Carlino di Fano, apriamo la pagina di apertura, in testa Giancarlo Danna ha presentato la sua lista a sindaco e quindi si intitola Danna sindaco, presentata la squadra, rappresentato il meglio della società civile, dice il candidato, e che si definisce orgoglioso e onorato. Tutte le parti sociali e della società civile sono rappresentate in questa lista, anche un disoccupato. E quindi vedremo anche questa compagine come si presenta all'appuntamento elettorale, quindi insomma molto frastagliato il panorama dei candidati. E rimaniamo a Fano per un'iniziativa dell'assessore Mancinelli, un'iniziativa presa anche dalla Germania che ha sperimentato questo modello sociale. Che cos'è? Si va verso l'orto di famiglia, si ritorna al passato per un modello anche di società, non soltanto per combattere la crisi, ma anche un nuovo stile di vita. Come dice l'assessore, vogliamo mettere in campo un'alternativa culturale fondata su valori spirituali. L'assessore Mancinelli è un grande assertore del motto che la bellezza salverà il mondo e si parte anche da queste cose. Terreni, l'assessore vuole mettere a disposizione aree comunali nei quartieri e come vi dicevo è già un modello in uso da tempo in Germania. Un modello che mi pare sia stato anche vincente. E allora, la politica, Aguzzi tesse le lodi di Del Vecchio che è il nuovo candidato a sindaco. La vicenda dell'archeologia che riguarda la struttura romana è emersa, c'è una spada di Damocle su questo recupero perché c'è un progetto di un condominio che grava su questa area e quindi il rischio è che si faccia come con il teatro romano cementificato. E quindi Frausini dice il teatro romano va reso visibile. Tenerlo così non è proprio una furbata. Però la cultura bisogna farla partire dalle scuole per capire l'importanza di questi gioielli, di questo patrimonio che la città e anche altre città hanno a disposizione. L'architetto Giuseppe Frausini appunto ipotizzò l'esistenza del teatro romano e quindi non bisogna commettere gli stessi errori a riguardo. Cambiamo testata, andiamo nelle pagine del Corriere Adriatico. Iniziamo da Pesaro, l'assessore Aldorici dice, Marche Nord, i politici conoscono tutto, gli assessori, quindi anche i sindaci conoscono quelle che sono le dinamiche di questo accorpamento, di questa manovra. E allora il messaggio è chiaro, i sindaci di Pesaro e Pfano e anche il presidente della provincia sulla riorganizzazione conoscono tutto. E quindi in questa intervista ci sono snocciolati tutti i nodi della questione. Dalla divisione in tre poli non si torna indietro, questa organizzazione serve soprattutto ai pazienti. E di spalla poi anche la spending review, come verranno organizzate i reparti. Si va verso anche un'estate, ahimè purtroppo di chiusura, luglio e agosto sono mesi particolarmente caldi non solo per le temperature ma anche per la sanità. Mancano sette primari e Ricci assicura che però per il pronto soccorso sia di Pfano che di Pesaro è stata chiesta una derega e quindi necessitano questi reparti di un primario ognuno per uno. Insomma quindi non è, questa è una richiesta fatta appunto da Ricci alla regione. Anche sul Corriere Adriatico, la vicenda dell'anziano che si è suicidato ieri, di spalla però una questione che riguarda lo stalking, quindi le minacce alle donne da parte di un ex. va a processo un cagliese che ha mandato alla sua ex 685 messaggi, tutti con veramente brutte parole, minacce anche importanti e di percorse. Insomma e quindi si è andati verso il processo per questa vicenda. Da Fano, pagina del Corriere Adriatico, fusione delle due Aset, vediamo che il sindaco dice se non si fondono queste due società la tasi sarà più alta perché siamo costretti a mettere in campo un percentuale maggiore e quindi il minimo dell'1,9 non può essere rispettato. L'ultima seduta consigliare utile è quella fissata per il 10 di aprile e quindi Aguzzi non vuole correre rischi a riguardo. Danna presenta la sua squadra politica però sulla questione di Aset si schiera anche contro il sindaco Massimo Seri e quindi un documento importante, serve più tempo. Poi Fano, il rischio di crolli nel Palazzo Comunale, c'è un allarme perché ci sono delle infiltrazioni e quindi anche il Palazzo Comunale va monitorato per questo. E poi ancora Corriere Adriatico, pagina di Fano, vediamo che il Vescovo celebra messa in un capannone, questo per focalizzare l'attenzione sul mondo del lavoro. Messa del Vescovo in un capannone per la festa di San Giuseppe, la crisi che non accenna a finire con dati sempre più pesanti per l'intero comparto fanese. Mercoledì è prevista appunto questa cena nel centro revisione AMC di Bellocchi, presenti tutti i vertici anche della CNA, imprenditori, commercianti e commercialisti, insomma tutte le compagini economiche della società, a questa messa così importante. Timidi segnali però arrivano dal comparto immobiliare, la strada però è ancora in salita, ma c'è chi pensa in positivo e chi dice ok i prezzi sono bassi ma sempre poche richieste pesano anche gli affitti. Ma si vede una timide ripresa di questo comparto. Allora nonostante il risultato sia stato molto chiaro, ci sono strascichi sul referendum di Marotta Unita, il risultato è appunto chiaro e dice il Comitato le chiacchiere sono inutili, però insomma è ancora rosso vivo la questione, la regione non ha bisogno di consigli, i voti di Torrette valgono come gli altri e quindi insomma questa questione ha ancora dei risvolti. Andiamo sul messaggero di Pesaro e vediamo che porta la notizia dell'aeroporto che ha rinnovato con il Comune la concessione per altri 15 anni per poter svolgere tutte le attività aeroportuali e quindi adesso dice Aguzzi si va verso la pista d'asfalto e quindi rassicurata fanno un fortuna per i prossimi 15 anni. Poi Isola del Piano, tornano gli olivi della legalità, dopo i furti insomma verranno ripiantati 40 piante che erano un simbolo. Meteorologo della pagina del messaggero e dice senza spazio a grosse interpretazioni uno splendido weekend. Pagina di Pesaro, del messaggero, Fiscopoli, quindi le indagini della Guardia di Finanza, una nuova tranche, altri sei imputati a processo. Adesso una vicenda che si ripresenta dopo quella del due o tre giorni fa in una fessura di un appartamento, una persona di Pesaro trova 160 milioni di vecchie lire, di vecchio conio, ma la Banca Italia non le cambierà più e quindi la giovane pesarese si rivolge a Dagi Italia e quindi provate nelle fessure di casa se casomani trovate qualche cosa, non si sa mai. Continuiamo sulla pagina di peso del resto del Carlino. La questione riguardante le assenze, le presenze in provincia dei vari assessori e del Presidente. Il capogruppo del PD, Daniele Tagliolini, replica le accusi di Forza Italia sulle presenze di Ricci, sempre richiamato più a Roma che a stare in provincia. Non è così perché dice appunto il capogruppo che Ricci è stato più presente di Baldelli e Foschi. Quindi nell'articolo trovate anche i numeri della cosa che lui elenca e quindi vi potete informare. Dan, appunto, sfida per un cambiamento, presenta la sua candidatura e la sua lista e dice questa è una vera sfida. Squadra come composta, quasi tutti neofiti della politica, forte rappresentanza del mondo anche della sanità. Sapete che la sanità e l'ospedale di Fano sono sempre state una delle bandiere di Dan. Aset Holding, il suo presidente tra due fuochi, naturalmente oltre ad Aguzzi, adesso critico anche appunto Seri, che attacca e dice la responsabilità di certi ritardi non sono di Marino ma della stessa amministrazione. Bene, e con quest'ultima pagina del messaggero di Fano chiudiamo qui questa rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Torniamo con i giornali lunedì mattina alle 7.45 ma noi ci diamo appuntamento questa sera per il Tg. Buon sabato a tutti voi. Buon sabato a tutti.